Walter De Benedetto a retino affetto da una severa forma di artrite reumatoide sarà domani a processo presso il Tribunale di Arezzo, lui non sarà presente. È accusato di coltivazione illecita di sostanza stupefacente, Walter utilizza la cannabis a scopo terapeutico dal 2011 per lenire i dolori che l'artrite reumatoide gli provoca. Il quantitativo che viene concesso dal servizio sanitario non basta e Walter decide così di coltivare cannabis nella serra adiacente alla sua abitazione a Ripa di Olmo. Una soffiata però porta al blitz dei carabinieri. Nel 2019 Walter assieme ad un amico vengono denunciati. L'amico è già stato processato e condannato ad un anno e due mesi. Sarà che quando si parla di omosessualità, disabilità grave, fine vita e cannabis lo Stato si impalla così? Per il caso di Walter c'è stata una grande mobilitazione, Mina Welby, Marco Cappato, il deputato radicale Riccardo Maggi, l'associazione Meglio Legale, il presidente del Corecom della Toscana Enzo Brogi. Anche la senatrice Emma Bonino ha inviato di recente un videomessaggio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il dolore non aspetta, afferma la senatrice, è una crudeltà non necessaria. Presidente, se può, quando può, come può, intervenga lei. Gli avvocati di De Benedetto, Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio hanno chiesto il rito abbreviato per evitare che nel peggiore dei casi si arrivi ad una pesante condanna e ci sia almeno lo sconto di un terzo della pena. La mia battaglia, aveva affermato Walter in occasione della scorsa udienza, è una battaglia di tanti, non mi tirerò indietro.